Buonasera a tutte e tutti che siete qui, grazie Valentina e grazie Rossella di essere qui, sarà una chiacchierata che faremo qui sul palco dello Sharebooks, quarta edizione dello Sharebooks Festival, ultimo giorno, ultima presentazione, sento anche un po' il peso di questa responsabilità anche di chiudere quella che è stata un'edizione veramente bella, come dire, scoppiettante. Oggi con Valentina Mira e Rossella Scarponi presenteremo l'ultima opera appunto di Valentina, dalla stessa parte Mi Troverai, edita da Sam, che oltretutto è fresca di pubblicazione. Ci tenevo a dire una cosa prima di introdurre questo libro e, come dire, di addentrarci in questa storia che viene raccontata, ossia che sono molto felice di condividere il palco con due donne. Quest'edizione dello Sharebooks ha avuto tra le sue particolarità quella di far calcare questo palco a tante donne, tante autrici e anche soggettività non conformi e credo che questa sia una scelta politica di cui vado molto orgogliosa e sono molto orgogliosa che Radio Sharewood e la redazione di Radio Sharewood abbia preso questa scelta in assoluta discontinuità invece a tanti altri eventi che vediamo. Detto questo, momento pubblicità a progresso e mi addentrerei appunto a raccontarvi questa storia scritta da Valentina e sono anche molto onorata che ci sia qui Rossella Scarponi che in questo libro ha un ruolo fondamentale. Valentina comunque, Valentina Mira ha collaborato con, come dire, già un suo bel curriculum nonostante la sua giovane età, è il secondo libro che pubblica per Fandango aveva esordito nel 2021 con X. Questo appunto è il suo secondo libro edito per sempre, però è anche una bravissima giornalista che vi consiglio di seguirla, pubblicato per il manifesto Valigia Blu e Corriere della Sera. Rossella Scarponi, anche lei è una scrittrice, ha scritto Soli Soli per Sensibili alle Foglie e prima mi ha confessato, spero di poterlo dire, che c'è forse qualcosa in cantiere e quindi insomma mi prenoto già un'ospitata per la prossima edizione dello Sharebooks Festival. Dalla stessa parte mi troverai, è molto interessante presentarlo a fine gennaio, a poche settimane dal 7 gennaio poi spiegheremo che anniversario ricorre in quella giornata ed è un libro che parla anche di un incontro fortuito che c'è stato tra Valentina Mira e Rossella Scarponi e fa una disamina, se lo dovessi raccontare in poche parole, è una disamina spietata di pose, miti di quell'ultradestra che ha finito per prendersi Roma, ha finito per prendersi l'Italia insediandosi, come dire, anche ai vertici della Repubblica. Viene citata all'interno del libro Giorgia Meloni, appunto Giorgia Meloni al momento è il Presidente del Consiglio e c'è un perché si parla anche di lei, ma questa è anche una storia di un abuso indivisa dell'impunità della destra e della polizia che in molti casi è con loro collusa. In realtà la storia è molto più complicata di come io la sto riassumendo in poche parole. La capacità che ho trovata in Valentina è stata quella di essere riuscita a squarciare questo velo di silenzio e si è riuscita a parlare della storia narrando l'altra storia di H. Larenzia mettendo in luce il costante vittimismo ostentato dai carnefici di ieri, di oggi e di sempre. Con questo partirei con la prima domanda appunto ogni 7 gennaio dal 1978 in una strada del quartiere di Appio Latino a Roma va in scena quella che è un po' una lugubre liturgia, un po' un rituale della memoria della destra oltrancista. Ogni 7 gennaio, qui riprendo delle parole non mie ma appunto delle parole di Valentina, in via H. Larenzia una selva di braccia tesi accompagnate dall'urlo presente ricorda i camerati caduti quel giorno nell'inverno appunto di 45 anni fa. E quindi così a Larenzia come nelle migliori tradizioni di ricostruzione storica dei fascisti diventa un po' un mito fondativo del neofascismo italiano e una ricostruzione storica anche fallace come sono soliti fare i fascisti. D'altra parte c'è chi ha provato un po' a smontare questa retorica e quindi qui parto con la prima domanda sia a Valentina che a Rossella la vedrai da due punti di vista diversi. A Valentina vorrei chiedere come si pensa attraverso questo testo di avere un po' reso giustizia alla storia e di essere come dire riuscita a smontare questa retorica. Mentre vorrei chiedere a Rossella, lei che in quegli anni li ha vissuti, quanto è preoccupante il rigenerarsi di queste narrazioni vittimiste da parte dei fascisti. Intanto ciao e fortissimo sto microfono, madonna. Comunque grazie intanto di averci ospitate qui. Una cosa che odio permettere sempre ma lo devo fare, sono abbastanza timida quindi spero che non ci spicherò nelle mie stesse parole. Quindi se sono riuscita a smontare la retorica vittimista magari, nel senso che non basta un libro purtroppo, è un tentativo quantomeno di portare, di ricordare che insomma a Calarenzia non è solamente, innanzitutto diciamo che loro hanno la tendenza a creare dei simboli. Questo simbolo qua in particolare cosa è successo nel 78, il 7 gennaio 78, due del fronte della gioventù, sostanzialmente della, come ho detto giusto? Sì, che era appunto la parte giovanile dell'MSI, gli hanno sparato insomma eravamo in quegli anni lì in cui loro erano i primi in realtà a sparare e anche con la connivenza, il mandato della P2, anche in molti casi per cui. E per quella cosa là un mese dopo, neanche un mese dopo, i NAR si autobattezzano nel sangue uccidendo un compagno a caso sostanzialmente, Roberto Scialabba, che tra l'altro non c'entrava manco niente con a Calarenzia. E cioè nonostante continuano appunto ogni 7 gennaio in un quartiere nel quale sono nata, quindi insomma ci sono un po' cresciuta con questa situazione tollerata, mal tollerata, comunque in un quartiere normalissimo di Roma, fanno appunto la loro commemorazione a braccio teso, eccetera. Quest'anno sembra che anche i giornali se ne siano accorti, ogni tanto la tirano fuori come un fenomeno folkloristico, evidentemente il fatto che appunto Giorgia Meloni nel 2008, una cosa che appunto metto nel libro, mettesse una corona di fiori sull'enorme croce celtica che c'è lì per terra, grossa quanto quattro numeri civici e che vedi anche da Google Maps, da Google Street Views, Street Views si chiama, giusto? E sostanzialmente sicuramente è stato il motivo per cui i giornalisti adesso hanno deciso di andare là e di mettere il loro obiettivo lì, però appunto loro lo fanno ogni anno raccontandosi le vittime della storia incredibilmente. C'è un pezzo però della storia appunto che non è raccontata ed è la storia di Mario Scrocca e su questo penso lascerei la parola a Rossella se ti va o... sì? Ok. Grazie, grazie, grazie. Qual è la storia di Mario Scrocca? Mario Scrocca viene arrestato all'incirca quasi dieci anni dopo a Calarenzia e viene tradotto a Regina Celia e 36 ore dopo muore impiccato in una cella antipiccagione. Io sono moglie, all'epoca avevo 25 anni e questa è una delle storie collegate a Calarenzia delle quali non si parla più. Ne abbiamo parlato tanto, lui è morto il primo maggio del 1987 e credo che Roma si sia rivoltata in quel momento. Si riparlava finalmente di qualcosa che stava succedendo e si ricominciava a parlare delle morti in carcere, delle morti sospette in carcere, dei suicidi in carcere, cercando di far capire che poi la sostanza non era tanto che si cercassero gli autori di a Calarenzia ma si cercassero di capire a chi quell'arma che era stata usata a Calarenzia era stata data. Perché? Perché dalle perizie balistiche risultava che una delle armi, una mitraglietta Scorpion usata per l'attentato di via Calarenzia venisse usato nel 1987 dalle brigate PCC, brigate rosse PCC, quelle che lo Stato non riusciva ad arrestare. Per cui diciamo che lo scopo principale era quello. Ho fatto questo breve sunto per dire chi era Mario. Mario era un compagno, eravamo compagni di Roberto Scialabba e abbiamo sempre fatto parte della sinistra extraparlamentare e molto probabilmente si è pensato tramite la dichiarazione del relato di una pentita che all'epoca aveva 14 anni di poter prendere il primo Mario a caso Riccio Moro, perché così era sulla deposizione della pentita, si parlava di un Mario Riccio Moro che aveva partecipato a una riunione per fare il timbro che poi ha firmato l'attentato di a Calarenzia. Ma semplicemente per capire questa cosa. Questo tanto per rifare un cenno storico, però voglio rispondere alla domanda che mi hai fatto tu. quanto è preoccupante. È inutile che ce lo diciamo qui da noi, quanto è preoccupante. È preoccupante, è sempre stato preoccupante. Più passano gli anni e più diventa preoccupante, perché quello che noi non riusciamo a trattenere è la memoria. Noi non riusciamo a trattenere la memoria antifascista. E questa cosa è grave, perché i partigiani che hanno raccontato a me la loro storia, vengo da una famiglia di partigiani. I partigiani che hanno raccontato a me la storia, che io ho raccontato ai miei figli, che io spero che racconteranno di loro volta a loro figli, sono morti. E piano piano ce ne andremo pure noi che siamo i depositatori di questa memoria. Per cui a me questa è la cosa che mi spaventa. Io non mi sono mai permessa di dire, e Valentina mette stimone, che i fascisti erano fascisti veramente al tempo mio. I fascisti sono fascisti e basta. E a me quello che fa paura è che loro ricordano i loro morti. Siamo noi che dimentichiamo i nostri. E questa è la cosa più tremenda che si possa fare. Faccio adesso una domanda a Valentina. Partendo da un'altra citazione, ossia che l'odio è un carburante nobile e non è così distante dall'amore. E in una tua recente intervista Valentina ti è stato chiesto quali erano i vari motivi per il quale tu, come dire, avessi scelto di scrivere questo libro. Tu ne hai elencati una serie e sempre in questa intervista hai detto che un altro motivo è perché io odio i fascisti. E questa parte dell'intervista non è stata, come dire, riportata. È stata tolta. Bene, penso che qui dal palco dello Sharebooks possiamo tranquillamente dire che odiamo i fascisti. Penso che sia importante dirlo e dirlo ad alta voce. Ma quello che volevo chiederti, perché un po' questa domanda mi stuzzica, quali sono i motivi per cui hai scritto questo libro? Oh, ma t'attacco un pippone che non finisce più. No, dai, ti do i tempi che poi ci sono tante cose di cui parlare. Allora, sì, evidentemente odio i fascisti, tra l'altro era un giornalista della stampa in realtà e non è che ha censurato la cosa, cioè la cosa è ancora più emblematica nel senso che l'intervista è stata telefonica e quando sono arrivata a questo motivo qui ho detto appunto, e poi evidentemente sì, è un libro che parla d'amore perché parla anche e soprattutto di come si conoscono anche Mario e Rossella e quando poi si parla di odio è chiaramente un odio diverso da quello che provano i fascisti. È un odio mosso d'amore, lo diciamo sempre anche fuori di retorica perché è così, però appunto è un libro che parla anche di odio, una cosa che nel podcast per esempio è diventato semplicemente rabbia. Io nel libro parlo in maniera molto chiara insomma di una rivendicazione di un odio politico e nel mio caso anche personale perché appunto va per chi aveva letto X. Essendo cresciuta in quel quartiere diciamo che arrivo all'antifascismo a forza di pizze, non per radici fortunatamente antifasciste. Detto questo, i vari motivi, allora premettendo che io sono convinta che ci siano dei motivi per cui scrivo il libro che sono anche misteriosi, nel senso che senza indulgere un pensiero magico che trovo anche reazionario, però penso che ci siano delle storie che ti chiamano e delle storie che ti chiamano di meno. Anche come elettrice vale questa cosa qua e quindi a maggior ragione come scrittrice. Allora sono tanti, uno è che ci tenevo appunto a provare a smontare questo apparato vittimistico che poi è quello che ha in comune il fascismo anche col discorso di genere per esempio, li trovo strettamente connessi, nel momento in cui ti ribaltano la responsabilità gli stessi di accalarenzia, facendo i manifesti su Filippo Turetta per dire e dicendo che l'abbiamo creato noi, le femministe, di una di meno in particolare, stai dicendo che ce la siamo cercata, stai dicendo questo e queste due cose sono strettamente connesse. Il discorso vittimistico che però dall'altra parte ha una necessità di presa di responsabilità, che è quello che non fanno loro ovviamente, che però è quello che appunto tocca fare noi. Anche la presa di responsabilità di un odio, di un odio rivendicato. Mi pare che nel discorso pubblico appunto ci sia una epurazione proprio del concetto di odio e quindi vabbè sicuramente il discorso nel libro lo sviscerò un po' meglio di come posso fare su un palco imbarazzata e in apnea e poi ovviamente ci sono i motivi anche personali, nel senso che Rossella l'ho conosciuta qualche anno prima di trovare il coraggio di chiederle se potessi raccontare la sua storia. Non mi sono mai sentita e non mi sento tuttora all'altezza di portarla in un libro, di portarla anche in una presentazione, nel senso che io non ero neanche nata, sono del 91, ho sicuramente fatto un sacco di lavoro anche di ricerca storica eccetera, ma sono laureata in giurisprudenza non è storia, quindi insomma con tutti i limiti del caso e mi sembrava allucinante che in qualche modo ci fosse stato appunto, ci fossimo persi un pezzo di quella storia lì che non è solo e non è mai solo una storia individuale, una storia di una famiglia, ma è una storia collettiva, è una storia di veramente ognun di noi. E quindi appunto mi sembrava, perché poi questa storia qua a livello di mainstream è passata solo in quel libro che non amo affatto, questo si può dire, anche se siamo registrati insomma, perché pare che alcuni abbiano anche denunce facili, vabbè insomma, Cuori neri di Luca Telese, parla di Mario Scrocca, Rossella la chiama Patrizia, quindi ecco la mancanza di cura per invece la memoria antifascista non solo appunto della resistenza al fascismo storico, ma anche degli anni 70 e 80 mi sembra che sia una responsabilità che ci appartiene e appunto magari sto parlando troppo, ci sono in realtà un sacco di motivi, quindi non... se vuoi dirne un altro paio... No, va bene così. Va bene così, ok. Hai un po' introdotto l'altra domanda che volevo fare ad entrambe. Premesso che io, come dire, sul palco c'è Valentina, c'è Rossella, però è importante e fondamentale sottolineare che Valentina è l'autrice del libro, no, secondo me invece è importante anche per non far passare che sia magari una storia scritta più umana, in realtà Valentina ha scritto questa storia e è uscito un articolo molto interessante su Valigia Blu in cui più o meno Valentina recensisce un po' il suo libro, è una cosa molto interessante perché si parla in prima persona di un lavoro che si è fatto e lei spiega come... è una storia che non ha cercato, l'ha già detta, è una storia che è arrivata da lei, quella di Maria Scrocca e così anche la figura di Rossella Scarponi, però lei ha scelto mentre scriveva che Rossella acconsentisse a ogni parola. Però nel dire che questa storia non l'hai cercata e anche come dire che il vostro sia stato un incontro fortuito, si denota un po' una profonda sensibilità al tema antifascista e quindi quello che vorrei chiedere a entrambe, siete sicure che sotto sotto in fondo questa storia non l'avete cercata e dal punto di vista di Rossella non abbia cercato Valentina come dire per incontrarsi e forse confrontarsi, visto che anche in X comunque Valentina introduce il tema. Effettivamente così come l'ho posta nell'articolo sembra appunto quel pensiero magico di cui parlavamo prima che è una roba che non mi fa impazzire. No, là dicevo che ci sono tanti autori che vanno proprio a caccia di storie, non è una cosa che mi riguarda come autrice nel senso che le incontri insomma, le incontri. Detto questo appunto è complicato, non lo so, non ci ho mai riflettuto. Di sicuro appunto non sono mai andata a caccia di questa storia ma effettivamente noi ci siamo conosciuti una presentazione del mio primo libro e quello che ci ha unite in realtà inizialmente è una tematica, parla di questioni di genere il primo libro e abbiamo parlato già in realtà di vittimismo nella nostra prima chiacchierata perché appunto lei era la presentazione, c'era il, non era il lockdown, era il coprifuoco e siamo passati attraverso il coprifuoco e sostanzialmente abbiamo bucato il coprifuoco tutte e due, abbiamo sforato per la prima volta il coprifuoco tutte e due per chiacchierare e è uscito fuori che io in realtà la sua storia l'avevo già sentita, l'avevo già intercettata, nel libro lo racconto che a un certo punto dopo un tot di birre, quindi una discreta faccia come il culo, si può dire serenamente, praticamente ho questa illuminazione e faccio, ma quindi tu sei quella Rossella, perché in realtà a Calarenzia come posto, non come rituale dei bracci tesi, dei fascisti di zona, lo menziono anche in X, nel primo libro, quindi esce fuori l'argomento a Calarenzia e esce fuori che in realtà anni prima di conoscerla avevo visto questo documentario fatto da un compagno Giancarlo Castelli che sta ancora su YouTube e che quindi io quella storia l'avevo, è tra l'altro una delle prime storie che ho saputo dei compagni quando finalmente ho, perché appunto essendo cresciuto in un quartiere fascista la militanza è qualcosa che ho incontrato veramente tardi nella mia vita, quindi ci siamo incrociate proprio nel centro di una X in quella presentazione là e quindi, però non so, di sicuro non l'ho cercata, mi sembrava impossibile che non se ne parlasse, non so come dire e ho pensato se lei vuole ci provo e poi il discorso del consenso mi sembra il minimo e mi sembra anche abbastanza allucinante che ci siano autori e autrici che parlano di storie per esempio sul carcere, visto che parla anche di carcere questo libro ma di qualunque altra cosa, senza mai confrontarsi effettivamente con chi quell'esperienza l'ha o l'ha vissuta o ha avuto dei parenti che l'hanno vissuta e combatte per i diritti dei detenuti eccetera eccetera, è una cosa che vedo per esempio nella letteratura italiana succedere sempre più spesso, magari ci succede come scrittrici per esempio di essere invitate a fare delle lezioni in carcere e poi l'esperienza, aveva successo anche a me, non era una lezione in realtà, era una sorta di, abbiamo proprio parlato, ho imparato più io sinceramente parlando del mio primo libro con quelle persone lì a Re Bibbia e però il punto è che non è sufficiente per conoscere evidentemente quella realtà nel senso che tu fai questa lezione e c'è sempre la persona, adesso non so quale sia il suo parole, insomma non il secondino però la persona preposta sempre lì presente e quindi evidentemente non puoi basare la tua conoscenza, da poi mettere in un libro rispetto al carcere su questi incontri qui perché banalmente non ti possono dire, lo vedi sto livido me l'ha fatto, cioè me l'hanno fatto qua per dire e quindi ecco però non so perché sono andata a parlare di questo, mannaggia mi hai fatto una domanda super specifica, passo il microfono, mi tolgo d'impaccio così Allora adesso Valentina mi blasterà, io invece sono una fautrice del pensiero magico, io credo che tutto ci abbia un senso, vabbè vengo da una famiglia di streghe per cui non potrei fare altrimenti, io so solo che quando ho letto il libro di Valentina, mentre lo leggevo ogni tanto mi fermavo e dicevo ma Cristo ma sta ragazza che capacità c'ha? Cioè io ho più di 60 anni eppure ce n'ho 18 insieme a lei e poi ce n'ho 28 e poi per cui credo che una parte della mia testa abbia detto questa sa veramente racconta bene le cose chiaramente con la mia sindrome da impostora, io ho scritto un libro sulla storia mia e di mio marito e della mia famiglia però credo che una parte del mio cervello volesse quello, in realtà sono andata a conoscere Valentina perché mi sembrava impossibile che una persona così giovane ci avesse una chiarezza d'espressione, ci avesse un suo modo Valentina ha dal mio punto di vista una voce incredibile, cioè tu apri il libro e ti arriva la sua voce così e per cui io volevo conoscerla, volevo vedere com'era sta ragazza in carne ed ossa e sono andata a una sua presentazione e poi lei va detto com'è andato per cui sì io ci credo al pensiero magico e credo che non sia un caso non solo che noi ci siamo conosciute ma che poi si è intervenuto un rapporto sororale così forte che era tanto tempo che non c'avevo beh poi mi metto a piangere, te ne ammerdo l'ho fatto apposta per mettermi in imbarazzo cosa sto facendo, non lo so ti abbiamo fatto imbarazzare un po'? terribilmente come stai? dopo Giemeno, non è violenza sulle donne non lo so, sto scherzando no, torno un attimo su come dire un po' il protagonista di quest'ultimo libro di Valentina Maria Scrocca che appunto prima veniva spiegato chi era questo compagno che come dire si è trovato accusato, derelato quindi anni dopo di essere coinvolto nella tragedia a Calarenzia per una denuncia oltretutto fatta da una ragazza che all'epoca dei fatti aveva 14 anni e quindi anche l'affidabilità di questa testimonianza che è stata presa per vero dovrebbe porci alcune domande Maria Scrocca rientra un po' nella casistica di quelli che sono gli abusi in divisa e tanto è stato denunciato negli anni sono tanti i nomi che hanno costellato un po' le pagine dei nostri giornali ne cito alcuni oltre a Maria Scrocca appunto ci ricordiamo tutta la vicenda di Carlo Giuliani Stefano Cucchi, Federico Aldrovandi U, Giuseppe Uva Renato Biagetti insomma ce ne sono sempre tanti purtroppo sono tanti scusate tanto è stato denunciato ma siamo ancora in una situazione drammatica quello che vorrei chiedere invece rispetto alla figura di Maria Scrocca dopo tutti questi anni come possiamo finalmente rendergli giustizia? oddio io con questa parola giustizia sono sempre un sacco di problemi io in realtà lo dico sempre io quello che vorrei per me e per mio figlio che nel frattempo è arrivato alla veneranda età di 39 anni io quello che vorrei è la verità io lo dice anche Valentina a un certo punto nei miei sogni più sfrenati penso a un compagno De Cella che sta in isolamento in quel momento a uno stesso secondino che va in pensione che sul letto di morte mi chiami per raccontarmi quello che realmente è successo in realtà non lo so neanche io forse la giustizia non l'ho mai cercata non lo so non lo so dire questo però tu hai fatto una lista che è brevissima c'è una lista enorme di persone e ritorno al discorso che abbiamo fatto all'inizio so loro che se la cantano bene noi non riusciamo perché noi dovremmo fare abbiamo delle giornate in comune da dover ricordare e non perché sono stati solo uccisi insieme ma perché di anno in anno si allunga la lista delle persone vittime di fascismo o di abuso indivisa io lo dico perché chiaramente e logicamente faccio parte di ACAD l'associazione contro gli abusi indivisa e è veramente una lista interminabile che fa paura Faccio una domanda a Valentina poi ovviamente se anche Rossella vuole interagire perché in questo caso cito Rossella c'è un dialogo che viene riportato dove Valentina esprime un po' i suoi dubbi sulla capacità di essere in grado di scrivere questa storia e si sente anche un po' in difetto da come traspare da queste parole un po' per quello che è il suo passato e per il fatto che lei ha avuto una relazione con un fascista lo scrive nero su bianco secondo me anche solo il fatto di aver avuto coraggio di scriverlo come dire è tanto nel senso io non so se sarei riuscita a dichiarare una cosa di questo tipo bene tu l'hai messo nero su bianco Rossella ti risponde in un modo che da come traspare da queste parole mi sembra mi dà l'idea di essere molto molto delicato o meglio mi arriva questa sensazione lei ti dice che con gli strumenti che avevi a disposizione in quel momento in quel contesto non sarebbe potuto essere altrimenti e da qui mi viene da dire che forse ci vorrebbero un po' più di Rossella Scarponi nelle nostre generazioni tra le giovani generazioni che insomma come dire ti incoraggiano e non c'è quel maledetto come dire senso di giudizio per cui ti guardo un po' dall'alto verso il basso e ti elargisco un po' di patentini su chi è più antifascista di un altro posto che io penso che dovremmo essere tutti antifascisti però la cosa che mi preme di più è capire come allarghiamo questo consenso e capire come la platea antifascista diventa numericamente infinitamente maggiore di quella fascista perché questi non devono più esistere e quindi la cosa che mi pongo è per fare in modo che questi non esiscano in assoluto più come si può fare e come si può anche cercare di avere un linguaggio che arrivi e si diffonda il più possibile quindi in poche parole vorrei chiedere a voi come per chi come si possono creare dal vostro punto di vista degli ulteriori anticorpi antifascisti a chi magari non non mastica cioè non vive in contesti politici militanti non non ha purtroppo la fortuna di avere un coordinamento studentesco che tanto si spende nelle proprie scuole e parla di antifascismo com'è che si può allargare questa sensibilità antifascista secondo me il fatto che un libro come questo venga pubblicato da anche una casa editrice definiamola mainstream da Feltrinelli può essere un passettino in avanti secondo voi quali sono gli ulteriori strumenti che si possono utilizzare allora secondo me vale tutto nel senso dalla lotta nei territori che secondo me vale e varrà sempre di più di un libro nel senso che magari avrei letto questo libro dieci anni fa nel mio quartiere senza però sapere se che esistono antifascisti militanti non lo so non ho purtroppo per fortuna in realtà gli occhi di dieci anni fa quindi non non so insomma un libro non è mai sufficiente detto questo mi sembra appunto di perdere forse caso per caso è una domanda gigante e sicuramente non ho la risposta provo caso per caso la differenza vera una delle mille differenze che abbiamo con quegli altri quei fascisti è che noi non abbiamo cioè il paternalismo evangelizzare la gente infilarsi dove c'è bisogno e andare appunto in maniera anche narcisistica a colmare quel bisogno per strumentalizzare in ogni modo possibile le persone in sostanza e questa cosa qua c'è anche rispetto agli abusi in carcere per dire perché cioè vabbè non faccio nomi ma diciamo un noto fascista romano contatta sui social le persone a cui è successo qualcosa di grave in carcere insomma e quindi diciamo noi questa roba qua di manipolare la gente di riempire dei bisogni e fare del paternalismo evangelizzare la gente col verbo non ce l'abbiamo divulgazione come può essere un libro è chiaramente un'altra cosa perché un libro è qualcosa che comunque non ti obbligano a leggere te la scegli la apri la chiudi quando ti pare se ti rompe le palle la rimetti dove era insomma non è è anche uno strumento intrinsecamente pacifico non necessariamente pacifista detto questo quindi ecco appunto invece la parte nostra appunto Rossella non è tipo il mentore quello che incontri e ti inizia a spiegare come si vive sì per me la risposta ci vorrebbero mille Rosselle nelle nuove generazioni ad aiutare le nuove generazioni ma in realtà anche le vecchie generazioni tutti nel senso una persona non che ti dà degli strumenti a te che non sai niente quella è la visione più della controparte ma una persona che a te che chiedi degli strumenti effettivamente te li dà quindi è proprio un approccio estremamente diverso cioè da una richiesta di una mano ti arriva una mano effettiva non c'è qualcuno che ti viene a cercare sui social per darti quella mano e poi strumentalizzarti in una situazione di enorme fragilità e bisogno quando parli dell'ex fascista poi mi chiudo mi chiudo mi richiudo no mi taccio e passo la parola a Rossella effettivamente è stata la relazione tossica della mia vita sostanzialmente per antonomasia e lui è arrivato proprio dopo un momento di estremo bisogno cioè dopo uno stupro e ha riempito quel bisogno di comprensione eccetera e poi insomma racconto le dinamiche meglio nel libro ed era secondo me importante parlare di di questa cosa qua anche raccontando una cosa che mi fa vergognare inevitabilmente nel senso essere stata con un fascista non è certo una cosa di cui vado fiera però secondo me è importante poter poter anche in letteratura fare i conti con questa roba qua perché noi siamo fermi a un libro super valido però che è Stirpe vergogna di Michela Marzano in cui lei si sorprende di scoprire suo nonno un fascista e quello è il fascismo storico cioè noi stiamo facendo ancora i conti con la vergogna di un fascismo storico non elaborato col fatto che appunto non i nonni di tutti erano partigiani perché se no chi era Churchill che aveva detto gli italiani è un popolo prima tutti fascisti poi tutti partigiani come è possibile e appunto ma proprio fare i conti con il fascismo anche negli anni 70 e 80 e anche quello odierno perché appunto quell'idea Calarenzia si muovono in territori esistono ci sono te li trovi come compagni di scuola nel mio quartiere era tutto era ed è tutto estremamente normalizzato cioè il professore di chimica è una persona per il resto super simpatica brillante che insomma era anche molto bravo nel suo lavoro si vantava di avere un busto del duce a casa quindi insomma fare i conti con quello che è il fascismo oggi oltre che ieri è qualcosa che in letteratura forse poteva essere utile ecco ho parlato troppo e quindi basta allora bilancio subito la narrazione io chiaramente c'ho la famiglia di mia madre e la famiglia di mio padre la famiglia di mia madre dieci figli mio nonno stava nei gap i miei zii erano partigiani dall'altra parte il papà di mio padre aveva la testa del PNF e mio padre andava a scuola con la divisa da balilla per cui ho subito bilanciato così e io non non riesco a provare vergogna per questa cosa mio nonno tutti e due i miei nonni erano stupendi poi mio nonno quando il fascismo è finito mi pare che votasse democrazia cristiana ma non mi ricordo insomma è una persona di destra e come fare e ho subito una risposta secca e se vuoi mi fermo qui non lo so cioè la realtà è che io non so come fare questa cosa mi rendo perfettamente conto del fatto che per me è stato facile perché io avevo 15 anni nel 77 e ho fatto l'ingresso al liceo e cioè c'era il collettivo femminista c'era c'era avanguardia per agli adipi lotta continua c'era per tutti i gusti e i fascisti avevano poca voce in capitolo però per me è stato facile cioè ecco la cosa che sento è che io comunque a prescindere da tutto invece non non so d'accordo col fatto che dicevi prima perché mi vergogno quante ce ne vorrebbero eccetera perché invece è proprio mi sento la responsabilità della situazione in cui viviamo cioè io vengo da una situazione di rivolta di continua evoluzione cioè di valori forti e mi ritrovo adesso dopo 45 anni in una situazione che odio ma è una situazione che è così anche per responsabilità mia molto probabilmente ho mollato molto probabilmente anch'io in un certo e lo dico ipoteticamente io non l'ho mai pensato però lo voglio dire per far capire a un certo punto ho pensato che ci potesse essere un'amnistia emotiva rispetto a certe cose che ci potesse essere la possibilità della libertà di pensiero per tutti cioè molto probabilmente ci siamo raccontati un po' delle cazzate e e ripeto come fare adesso non lo so più che che vivere come vivo non so fare però secondo me invece la svolta della narrativa ma della narrazione è importante è come l'ho già detto prima continuiamo a raccontare queste storie continuiamo a raccontare le storie delle persone che venivano portate a via d'asso ma parliamo anche delle persone che negli anni 80 venivano portati per quattro giorni e quattro notti nelle segrete di un commissariato e poi dopo venivano portati in carcere bisogna parlarne di queste cose e il modo più bello di parlarne di certe cose è parlarne in tutti i posti dove uno può parlarne anche al bar volendo ma scriverlo secondo me è importante è importante è vero che uno dice tu già sei sensibile al problema ma se io leggo un libro come X o leggo un libro faccio la pubblicità gratuita occulta come la trama alternativa di Giuseppe Lomba che è un libro che consiglio a tutti di leggere sulla giustizia trasformativa perché? perché mi viene narrato qualcosa e anche se io leggo saggi so che c'è un sacco di gente che i saggi non li legge che preferisce più leggere storie romanzi è un passettino piccolo che però può diventare quasi quotidiano mi viene in mente rispetto a questo e credo che sia anche doveroso dirlo da questo palco appunto perché le storie è importante narrarle la vicenda di Ilaria Ilaria è una ragazza che l'anno scorso si è trovata a manifestare in Ungheria contro i antifascisti ungheresi che come dire anche quelli sono belli corazzati purtroppo e adesso è in carcere tuttora in carcere rischia una pena molto molto grossa rischia più di dieci anni di carcere se non ricordo male per appunto aver partecipato a una manifestazione di questa storia non ne ha parlato nessuno l'unico che come dire si è speso e ha scritto delle tavole è stato Zero Calcare su Internazionale che secondo me dice una cosa molto molto interessante ossia che la cosa importante appunto nel non elargire patentini di antifascismo però dall'altra parte la dico esattamente come l'ha scritta lui è non rompere il cazzo a chi fa antifascismo cioè nel senso che c'è chi può praticarlo dal punto di vista culturale c'è chi sceglie di metterci la propria faccia il proprio corpo e scendere in piazza e la cosa importante è non giudicare chi lo fa come lo fa l'importante è continuare a farlo quotidianamente scusate piccola parentesi visto che il processo di Ilaria si aprirà a giorni penso che nel momento in cui parliamo di antifascismo fosse importante ricordare anche questa cosa mi avvio all'ultima domanda che faccio sempre ad entrambe partendo appunto dal titolo di questo libro che dalla stessa parte mi troverai me lo stavo dimenticando ho avuto un momento dalla stessa parte mi troverai che prende spunto da anzi è una canzone sempre per sempre dalla stessa parte mi troverai di Francesco De Gregori canzone scritta nel 2001 in questa canzone De Gregori parla della permanenza dell'amore della costanza della natura umana in questo caso a me sembra un chiaro e netto riferimento e schieramento politico è questo il significato? allora risposta secca sì io ti ringrazio per aver parlato di Dilaria Salis e di aver citato Michele Zero Calcare insomma perché il discorso culturale e il discorso dell'antifascismo militante non sono necessariamente contrapposti nel senso che non appunto lui stesso incarna entrambe le anime con fatica con un equilibrio complicato ma insomma ci sono penso che appunto Sherbux sia anche questo no cioè non sono due robe contrapposte detto questo che però ci sia soprattutto in questo momento una sorta di antifaswashing in funzione perdonatemi il termine l'ho appena coniato però mi sembra di sì in funzione antigoverno semplicemente è una cosa di cui ha senso parlare e che anche una parte del mondo culturale oltre che giornalistico si approprii di simboli è una cosa che è successa per esempio a delle compagne di Fate Off con una serie tv cioè sostanzialmente in maniera non solo non consensuale cioè contro il consenso contro il contro un dissenso che era stato esplicitato sono state utilizzate delle magliette e dei simboli che erano delle toppe precisamente non erano delle magliette dentro a una serie che si dichiara di voler raccontare insomma l'antifascismo romano e di fatto si appropriata di simboli non le sceneggiatrici che non sapevano niente di questa roba però insomma ci sono delle contraddizioni tra il cercare di fare il lavoro culturale in questo contesto qua e il discorso dell'antifascismo militante perché appunto ti trovi ad avere a che fare anche con queste derive qui nel senso che non è in quel solco che si muove questo libro e ne penso e spero il mio lavoro e ovviamente in questo senso anche quello di ovviamente di Michele di Zero Calcare e quindi sì per quanto riguarda il titolo assolutamente sì era un modo ha avuto altri titoli in passato inizialmente doveva chiamarsi come una citazione di una canzone degli ultimi Red Rose poi è cambiata insomma io non faccio tutto l'excursus perché sono quelle cose dietro alla nascita di un titolo che sono anche abbastanza noiose se non per gli addetti ai lavori comunque il discorso era sì prendere una parte prendere una posizione ben precisa perché non basta rifarsi alla Costituzione insomma ce l'ho abbastanza con chi si appunto autodà questo patentino di antifascista perché poi c'è tutto un discorso appunto anche di perché finora abbiamo parlato di memoria legata alle vittime anche dalla parte nostra però il punto è che ci sono delle pratiche di sembra che l'antifascismo piaccia appunto a questi che fanno antifawashing solamente quando è vittima nel momento in cui si cerca in qualche modo di reagire o agire lì l'antifascismo non piace più e quindi forse quelle rondi scrimine importante la risposta comunque sì e dai sì 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 ancora sì io non so che altro dire io sono felice perché è un pezzo del libro cioè un pezzo del mio libro che Valentina ha ripreso e che già significava quello ma che in più significava e significa anche nel libro di Valentina che non solo noi saremo sempre da quella parte intesa come parte politica ma che non saremo mai più dalla parte delle vittime io che ho vissuto per anni come vittima ah lei è la moglie di Mario lei è la moglie di quel compagno che è morto in galera eccetera a un certo punto era diventato quasi un segno distintivo cioè ero solo quello in realtà no da quella parte non ci voglio stare voglio stare da quella che dice Valentina grazie mi prendo pochi secondi innanzitutto per ringraziare tutti e tutti voi che siete venuti a questa presentazione e che avete attraversato il centro sociale Pedro in questi giorni ringrazio tantissimo Valentina che ricordo che il suo libro è in vendita al banchetto sotto il soppalco e che parte di questo libro l'ha scritto anche qui a Padova quindi come dire c'è un po' anche un'affinità con questa città ringrazio tantissimo Rossella Scarponi di essere venuta qui ci rivediamo insomma per il tuo prossimo libro quando uscirà però io vorrei veramente fare un applauso di quelli grossi e fragorosi per ringraziare veramente tanto 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 la redazione di Radio Sharewood che ha lavorato per mesi alla quarta edizione dello Sharebooks sono tantissimi ragazzi e ragazze sono hanno messo si sono messi in gioco e anche quest'anno hanno tirato fuori un'edizione meravigliosa non li cito nome per nome però sono tanti e sono stati veramente eccellsi a tutti gli editori e le case editrici che anche quest'anno sono venute ci hanno accompagnato in queste giornate hanno esposto dei bellissimi titoli facendo anche una scelta ben precisa perché come c'è stato scritto come è stato scritto nelle borsette dello Sharebooks leggere un atto politico e con questo vorrei anche ringraziare i compagni e le compagne del centro sociale occupato Pedro che hanno messo a disposizione il loro tempo libero chi ha curato il bar la pizzeria che è fantastica e buonissima loro sono bravissimi chi ha fatto le pulizie chi ha reso possibile l'apertura di questo spazio e ci ha fatto trovare un posto caldo dove appunto trovarci e come dire anche confrontarci tra di noi grazie al reparto tecnico loro hanno permesso che tutto questo venisse registrato in modo che si possa vedere ci saranno su Radio Sharewood e su Global Project troverete i report di quello che è stato fatto in questi giorni Ludovica e Pablo siete i miei preferiti sempre e siete come dire è stato anche importante come dire visto che parlavamo prima di memoria anche conservare questi 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 incontri che ci sono stati per poi rivederseli ma la cosa più importante è grazie a chi a Padova ha aperto degli spazi di libertà ha aperto degli spazi antifascisti continua a praticare antifascismo militante e dà la possibilità di continuare a camminare per strada sentendosi al sicuro perché la sicurezza non ce li danno con le merde in divisa ma ce la diamo noi con noi stessi facendo quello che continuiamo a fare quotidianamente il centro sociale Pedro Radio Sharewood il collettivo Spina Squirt la Tana a Padova è una specie costantemente via di riproduzione continuiamo a farlo perché è importante ed è giusto fare così grazie a tutti e tutte ci rivediamo l'anno prossimo ma ci rivediamo prima dal 7 giugno al 14 luglio allo Sharewood Festival c'è il teatro dopo lo spettacolo teatrale sindrome Italia scusate sono un po' sorda ok rimanete qua mangiate la pizza e poi ci sarà lo spettacolo teatrale sindrome Italia grazie a teatrale grazie a teatrale grazie a teatrale